La piazzarda si trova all'estremità orientale della provincia di Milano in vista del Bergamasco è fortemente interrelata, correlata sia all'area milanese che ovviamente all'area bergamasca e qui il collera Morbus fece la prima vittima il 30 giugno del 1836 si chiamava Carlo Marcandalli ed era un giovane di 25 anni, un giovane contadino di 25 anni il parroco Don Giuseppe Stampa annotava appunto la sua scomparsa correlandola al collera sotto la data del 30 giugno e la sua sepoltura il giorno successivo, la sua sepoltura senza funerale perché ahimè le vittime delle epidemie venivano e vengono sepolte senza funerale quindi il primo luglio del 1836 nelle settimane successive si ripetono serialmente molte di queste annotazioni, annotazioni simili a queste quindi purtroppo diversi abitanti del paese e parrucchiani di Don Stampa perdono la vita questo succede per ben 56 volte, in 56 giorni tra l'altro perché appunto l'ultimo decesso veniva registrato dal parroco il 25 agosto Luigi Fumagalli, un falegname di barche di 21 anni quindi tra Carlo Marcandalli e Luigi Fumagalli l'excursus è di 56 vittime che farebbe pensare, vista la percentuale media, il rapporto medio tra le vittime contagiati che i contagi possono essersi aggirati sul centinaio e oltre di vittime oltre il centinaio di vittime in una località che contava circa 2000 abitanti quindi un impatto abbastanza significativo senz'altro ampiamente paragonabile a quello che ha avuto il coronavirus nelle prime settimane del 2020 ecco colpisce abbastanza nel caso specifico appunto di questa località di Vapio Darda il fatto che il parroco Don Stampa è evidentemente ben radicato nel territorio e probabilmente anche nutriendo un amore verso questa località dove si trovava dal 1795 ormai quindi era un quarantennio in alcuni casi poneva a margine dell'atto di morte anche delle annotazioni private e ne mette subito una sulla morte di Carlo Marcandalli quindi la prima vittima del colera Vapio Darda e scrive queste parole questo primo caso fu sì violento e terribile che i gendarmi di guardia piansero per timore e spavento val più un prete che mille soldati quindi Don Stampa parroco di Vapio siamo in età austriaca c'è probabilmente anche una componente di conflitto latente o esplicito tra l'autorità religiosa che lui rappresentava e quella civile che allora ovviamente incarnava la presenza austriaca sul territorio scrive questa nota in cui vuole sembrerebbe voler rimarcare la sua saldezza di fronte alla sua saldezza morale e personale di fronte a questo evento dirompente che aveva colpito il territorio e la confronta appunto con invece la fragilità di questi giovani soldati che non avevano retto lo spettacolo sicuramente non piacevole della morte di un loro coetaneo causato dal colera